Le avete visti tutti quei film in cui l'eroina ha una malattia terminale ma nonostante la chemio e i respiratori è una gnocca spaziale? Ecco, non è il mio film. Ma perché gli scarti sono carini? Non abbastanza, c'è molta più dignità a farsi rifiutare da vostra figa. Trovato! Quindi? Come va con lo stalking? Non bene, ha il profilo Instagram di un bimbo minchia, fa canottaggio come il padre, ingegneria navale come il nonno. Se ti annoio così tanto perché mi segui dappertutto? Che vuoi? Una cena! E poi se non scatta nulla giuro che ti lascio in pace. Andata. Marta, mia madre. Non mi avevi detto che si trattava di una cena di famiglia? Sono fai studi, lavori... Faccio gli annunci in un supermercato. Ma l'hai visto con chi si è presentato l'altra sera? Ma quindi sono la ragazza più brutta con cui tu sia mai uscito? No. Come ti vedi a 60 anni? Ti sei spenta un po' troppo oltre. Devi dirglielo. Non lo so. Ti sono esatto. Mi sa che hai inteso. Chiudiamola qui. Quello che è successo ha accelerato tutto. La situazione è molto grave. Mi dispiace. Di tutto, devo dirti una cosa. Abbiamo sempre una scelta. Ti riportere in ogni dove. Perché tu mi metti sempre al tuo... Tanto lo sai. Potrei andarmi da proprio sul più bello.